Noi siamo di Robitwell, Robitwell è un nuovo portale e-commerce per la vendita online di prodotti gastronomici e siamo qua in pre-inaugurazione, possiamo dire perché l'inaugurazione vero e propria dell'attività sarà il 23 di ottobre quando c'è il Salone del Gusto che si terrà a Torino, quindi saremo da ripetere il 27 ottobre al Salone del Gusto per lanciare questo nuovo portale e-commerce che non è solo un e-commerce di mera vendita di prodotti gastronomici ma vuole essere anche un portale di formazione e informazione sul mondo del food. Avremo quindi una sezione di e-commerce ma anche una sezione che è un magazine dove pubblicheremo articoli del settore food, ricette sarà abbastanza innovativa come idea e oltre alla sezione di e-commerce ci sarà una sezione dove ogni mese avremo due box i Love It Box che sono due box dove proponiamo delle ricette e se i nostri clienti acquistano il box possono con i prodotti che noi abbiamo mappato dalle eccellenze no gastronomiche d'Italia, quindi di tutto il territorio potranno farsi delle ricette con i nostri prodotti. La nostra attività è stata patrocinata, quindi l'idea progettuale ho ottenuto il patrocino all'Università del Visto di Collenzo e siamo qui a Dislu Graves per farvi assaggiare, iniziare a farvi assaggiare le eccellenze che sono state mappate, non solo da noi ma abbiamo fatto in collaborazione anche con Gastronomist. Grazie.